Comunione, missione sono le parole chiave per il futuro della CEI. Con queste parole, Cardinale Gualtiero Bassetti stamattina ha introdotto la settantesima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani in corso a Roma fino al 27 maggio. Intanto ieri Papa Francesco ha rivolto un messaggio ai Vescovi. Sentitevi liberi in questa scelta. Sentiamo. Ha individuato le parole decisive per il futuro della Conferenza Episcopale Italiana e la Presidente uscente, Cardinale Gualtiero Bassetti, nel corso dei lavori della settantesima Assemblea Generale della CEI, che proseguirà fino al 27 maggio e che porterà alla scelta del nuovo Presidente dei Vescovi Italiani. Comunione e missione mi sembrano due parole chiave per la CEI che andrà disegnandosi nel prossimo futuro. Il nostro essere insieme discepoli e pastori dipende dallo sguardo convergente su Gesù che ci rende forti per affrontare le responsabilità che ci attendono. Vi consegno quindi questo primo pensiero prendendo a prestito le parole di San Paolo. Non vergogniamoci del Vangelo perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Seguiamo Gesù fino al alla fine, viviamo la comunione tra di noi fondandola sull'essenziale della fede. A quel punto potremmo raccontare la nostra esperienza di credenti nel Risorto, educare alla buona vita del Vangelo, consegnare la parola a quanti si attendono da noi una luce e un conforto. I vescovi delle 226 diocesi italiane sono chiamati a presentare i tre nomi per il successore di Bassetti su cui la decisione finale spetta Papa Francesco il quale ieri pomeriggio ha esortato loro a sentirsi liberi in questa scelta. Bergoglio si è intrattenuto con i prelati per quasi due ore nel corso delle quali si è discusso della guerra in Ucraina e dei rapporti ecumenici a partire da quelli con il patriarca ortodosso Kirill. La conferenza episcopale italiana dovrà anche affrontare il nodo abusi alla luce anche della lettera inviata dal coordinamento di associazioni che tutelano le vittime di pedofilia da parte del clero che ha chiesto una commissione di indagine indipendente che faccia luce sulle tante denunce arrivate nelle parrocchie e nelle diocesi.